A Fiorano Modenese c'è un locale a tema che ispira ogni serata al mondo dei fumetti e del cinema. Sabato 6 giugno si è parlato di doppiaggio e abbiamo incontrato una voce italiana amatissima. E siamo qui con Mino Caprio. Sì, al cesso. È benissimo. È un convegno di Fiorano Modenese. È vero, si sente qualcosa in sottofondo, ve lo facciamo anche vedere. E adesso un attimo che ci riusciamo, ecco, siamo proprio... Come vedete, ecco, questo è il water, il water del Comics Bar. Oh, aiuto! Dopo scende l'acqua dallo sciacquone in interlottamento. Mino è la voce italiana ufficiale di tantissimi personaggi, in particolare la moto di Ted, che si fa ad uscire il numero 2. Ted 2, Ted 2, esattamente, c'è stato il Ted 1 due anni fa e adesso ricompare il nuovo Ted nelle sale. E secondo me, caralberta, è ancora più spassoso e divertente del primo. Insacrante, irriverente, sboccacciato. Guardate, non me lo dovete perdere, anzi, vi devo dire la verità. Portatevi un pitale al cinema perché ve la farete... E' un saluto! Quindi ci saluti come Ted? Come Ted, beh... Sì, in questo momento io non ho con me il bomb, il famoso bomb, no? Del quale il Natale, eccetera, eccetera. Voi non lo prendete, però, è meglio lo dirò. E vi saluto dicendo, vabbè, venite a vedermi, eh, non solo me, ma anche Mark Goldberg e soprattutto quella bellissima donna che è mia moglie, Jessica Barth, in arte, Tammy Lynn. Ciao ragazzi, mi raccomando, venite, vi aspetto, eh! Ted, Kermit dei Muppets, Peter Griffin, C3PO di Star Wars, sono solo alcuni dei personaggi che ci hanno letteralmente incantato con la voce di Milo. Da l'ambrudino per...